In occasione della diciannovesima giornata del giardino è stato presentato a Taranto il roseto delle delizie e restauro botanico di una porzione dei giardini storici del centro ospedaliero militare ionico, luogo del cuore storico della salute del FAI. Frutto della sinergia tra marina militare Garden Club Taranto il progetto finanziato dal club è stato realizzato dall'agronomo paesaggista Filippo Marroccoli con l'obiettivo di rispettare e valorizzare l'impianto delle aiuole. Apriamo alla cittadinanza per far riscoprire un tesoro nascosto che è appunto il giardino delle delizie che faceva parte della villa Capocelatra che insisteva all'interno del comprensorio dell'ospedale che attualmente purtroppo non esiste più perché fu abbattuta in concomitanza della costruzione dell'arsenale militare. E' rimasto questo giardino che grazie al Garden Club di Taranto sta rivivendo una nuova stagione, una nuova primavera se vogliamo dire, portato a compimento delle opere di restaurazione Riportando gli antichi fasti di un giardino italiano classico di tutte le ville del meridione d'Italia. E' una precevolezza architettonica al centro di Taranto che la Marina Militare intende portare, far godere anche a tutta la cittadinanza italiana, insomma la cittadinanza di Taranto con l'apertura del giardino a delle visite programmate. Intanto innamorarmi del posto che è affascinante e storico, l'ispirazione che mi ha dato è stato quello di un roseto cioè la prima immagine che mi è venuto è questo giardino di collezione, un giardino di rose, anche perché siamo in un luogo veramente antico della città e in collaborazione con il Garden Club e con la Marina abbiamo tirato fuori questo progetto di restauro rispettando quello che nel posto già c'era quindi questo giardino che aveva proprio l'atmosfera di un giardino segreto. Il restauro che mi è stato commissionato dal Garden Club è soltanto di questa piccola porzione di 350 metri quadri. Il giardino è ben più grande perché fa parte di una porzione di un parco e la Marina già sta lavorando per un restauro più importante, ma per il momento il nostro lavoro termina con il giardino delle rose.